NFT, Non-Fungible Token Spero di averlo pronunciato bene L'opera NFT facendo comunque parte di un mondo che viaggia in una velocità esponenziale e che quindi nello stesso istante è un'immagine che può arrivare in ogni parte del mondo Spero che questo messaggio comunque possa arrivare a più gente possibile è un qualcosa che possa servire per dare la forza di andare oltre la rabbia oltre la negatività, oltre il sentimento negativo È stata una sfida per me, infatti all'inizio neanche sapevo bene cosa dovevo fare se dovevo fare un'opera solamente digitale o se potevo digitalizzare un lavoro fisico però è stata comunque una bella esperienza Sono Clarissa Baldassarri e questa è la mia opera NFT per The Value of Touch Nivea